Parlami in intro quindi Sì, vai, vai, vai Ciao a tutti, sono Volfix03 Aggiungo in unissimo video in compagnia di Diego Ah no, 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 mi sono buttato giù Aiuto, che sei davanti a me Chiamate più e non risponde Vabbè, io l'ho richiamato Ma che cosa Non puoi cadere, cioè una volta che non cato Io ti caderei Ok, l'ho richiamato neanche a te ritornato No, in verità non mi risponde più, ok, sì Una cucinella, una cucinella, una cucinella Un qualcosa di rosso Ma lo stiamo cadendo di nuovo, dai Guai a te se cadi di nuovo Ok, dai, fai lì La mia intro non è seria, non è mai seria Ah, vabbè, manco la mia seria, posso iniziare a giocare Io non ho fatto la mia casomai Eh, cosa devo fare qua? Eh, sei in verità Volfix, aiuto, sono bloccato in un posto qua Eh, lo so, tra poco scadiamo sotto nell'isola Aiuto Io ti vedo Io no, fammi uscire Tra 20 secondi No, 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 aiuto, aiuto, aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Guarda, ne prendisci secondi Ti libererò, va bene? No, 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 no Non muori, tranquillo No, 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 ok E' un po' buon Natale Un po' buon Natale Io devo prendere, hai detto, quelle, le cose che c'ho nella cesta Esatto Ok, se sono qua Però non c'è un canale No, scherzo Non si poteva aprire Questo, c'è Questo, questo Ma no, c'erano tante cose Però non dico cose Ovviamente sono sempre le stesse cose Le uova Le uova, le uova, le uova Io non ti sento Oddio, ho paura Oh, 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 oh Hai trovato? No, non scappare No, hai pantaloni Stinto le uova Oh, sei un tipo al centro Madò Aspetta, come faccio a spostarmi? Devi usare i bloc Aspetta, devo fare una cosa bella Ho buttato via l'arco Non dovevo Ma devi stare attento Che al centro C'è della gente Va bene? Quindi al centro ti possono uccidere Cioè, anche nella tua isola Ti possono uccidere Però al centro È ancora più pericoloso Ma se tipo mi faccio un bunker qua Col copro di muro Mi nascondo È da nab il bunker È da nab il bunker Ma io sono un nab sul Minecraft Cioè, ho soltanto le frecce adesso Perché prima ho buttato l'arco Io sto al centro Allora, io devo ricordarmi Come si crea un arco No, grazie Perché qui non lo posso fare Oppure sì Aspetta, io mi devo creare un arco Io sto al centro Ah, ma siamo solo noi due Non ho il filo per l'arco Ma non siamo solo noi due Ce ne sono altri No, siamo solo noi due Però sono morto Però sono morto E li ho uccisi Grazie, bellissimo E poi compi Ti lascio un po' di tempo Ma lei doveva riuscire a creare il muro Cioè, il ponte è più che altro Perché queste cose io non le so fare C'è un tizio Ah, sei tu quella con la corazza Ma metti la corazza a te Subito Nooo Scusa, no Protezione contro uovo Che schifo se scappa Non ci sta niente Prenditi Ho capito Aspetta Perché non prende niente? Ti piace avere una trucchia Lancia con le frecce? Io ho paura Non mi ricordo come Che si mettono i blocchi Allora, aspetta Ho messo un blocco Ciao Giordano No, no, no Quanto non mi prendi Ma ti prendi? Ti ho preso No, tanto Non mi prenderai né ore né mais Mais? Faccio una cosa estrema No, no, no Le palle di nero Che bravo Prodo un lecca lecca Che me ne faccio un lecca lecca A vent'anni Olooo Che mi si fa? Eh, sì Dove sono? Hai vinto Ho vinto Sì, proprio perché io sono Bravissimo T'avevo già detto prima Casomai Andiamo Siamo Yeah Segui un po' buonatale E poi c'è Perché mentre noi stavamo giocando C'erano altre persone che stavano giocando Che ci faccio? Ah, c'è un letto Ti dice Torna da l'ombra Tipo io Eh Allora, non c'ho la tesca Ora, quanto tempo devo aspettare? Qua so Eeeh 5, 4, 3, 2, 1 Alla hu akbar Uh, TNT ho trovato TNT E lo dici pure Ho un sacco di cose Dice Scherzo Ma le mele Le posso lanciare? Le mele no Questa non si prende Le pietre Non c'ho niente Io ho paura di che sta venendo a te il Cider Ah? Io ho paura di che sta venendo da te il Cider Ho trovato il melo La capo è La mela d'oro La mela d'oro Madonna 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 Guarda che ne ho Uuu Aspetta ma tu sei là Ma io tipo Se voglio lanciarti una freccia Come faccio? No, questo mi attacca Come lancio la freccia a caso? Eh, le frecce devi avere l'acqua Eh non ce l'ho Perché mi danno la freccia senza con l'acqua? Hai trovato Camden Blazeria? Cosa significa? C'è l'acqua Ha rotto il ghiaccio Ah Ah Proprio queste ski wars Saranno proprio senza senso Fa ti parli Quello di pro delle costruzioni adesso Un tizio l'hai ucciso male No, secondo me va pure io Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta No No, 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 no Cioè io non so Mi faccio le torrette Per poi morire Perché sono intelligente Pensavi di morire Ponevi Eh no, volevo proprio Per farti compagnia nella rigua No, non mi serve l'armatura Forse sì Perché ci sono le pantaloni di armatura Quindi Eh, non è che sia protettivo per la quale Però non mi ricordo com'è Se io tipo Ma M'avvicino al blocco Giusto per poi metterle Devo premere un tasto Non quello per cadere però Perché sono blu? Perché si vede tutto oscuro? Che carata la noc Allora io Siccome sono proprio Nardo al gioco Non so proprio come si fanno Le cose Aspetta Forse non ti vede Ma io tipo per No, no, c'è un hacker No, no, c'è un hacker Come c'è un hacker Aiuto Io mi suicido allora Ho fatto una cazzata Sono uscito a guardare Io sto facendo una torretta Per andare in altissimo E poi Uccido tutti da l'altro Ma forse per una quantità Io vado ancora più in alto Allora Cerco i bersagli Provo a colpire Però non c'è nessuno Devo riuscire a trovarli Mi devo trovare Ora o mai più Lanciato la palla di neve a casa No Ma ricorda tu Se tu lo vuoi Lo sarai Una di voi Ma ma Nei miei jeans Ma che cosa Io come faccio ad arrivare a via al centro Cioè devo creare un bond Da qui alla Non lo so creare No vabbò Mi colpiscono No, 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 mi colpiscono Ho detto una cosa su Instagram Che dice Amore, devo dirti una cosa Dimmi No, mi hanno ucciso Ma me ne impara a fare I pesci da pire Giacomo Wow Sono morto Se sei c'è che sono morto Non lo vedi, siamo in paradiso Cioè abbiamo pure gli arcobadeli Siamo su una nuvola Ma aiuto Siamo un prigioniere del paradiso Aiuto Ho certito per questa cosa Aiuto Aiuto Tella in fondo Ma quando inizia? Eh, quando arriva in play Siccome noi siamo pro Non dobbiamo aspettare Ora scrivo un messaggio un sito Sam Non posso parlare prima di iniziare la partita Dov'è Adele? Non lo so che si Sono Sono Hello It's me It's me I'm sorry Troppo tempo Sono Natale Via 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 Se non inizia Madonna Chiamo Gesù Madonna Santa Aspettalo Chiamagli un attimo Chiamagli a Gesù Un attimo Così fa Iniziere sta partita Allora Ci penso io Allora il numero era 666 oppure era Gesù 666 Aspettate Io ho l'umore di Gesù Aspettate Ah sì qua l'ho trovata apposta Gesù Aspetta Ci parlo io Ci parlo io Senti Gesù Allora qui c'è un problema Ma siccome dobbiamo iniziare queste Skywars In teoria tu dovresti Darci l'ok per poter iniziare Non è che poi dovresti Sì ma Ma se noi dobbiamo Stiamo registrando un video Come che dobbiamo aspettare Sino a dopo Cioè dobbiamo aspettare Per forza gli 8 giocatori Quindi Cioè scusa Cosa che dovrei fare adesso Dovrei riuscire No ma nemmeno se mi paghi Scusa qua Io ormai Cioè dopo mezz'ora Che sto registrando Dove ancora aspettare Non posso Mi scusi Va bene Va bene Dice che dobbiamo metterne Un'altra comunque Va bene Dice che altri giocatori Non arriveranno Perché dice Non hanno il futuro Quindi dobbiamo fare Come si faceva No alle 3 Bene Ah no Perché sono ritorno Dalla Upp Luckyworks Aspetta aspetta Minecraft Minecraft In quale che devo entrare Dove sei Vai avanti Buttati nel portale Veloce Subito subito Sei insieme allora Dove sei Salta 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 che forse ti vedo Ah si sei lì Si proprio un pixel Dentro un pixel Sai che nel tempo Si è il giorno Si è il Natale Praticamente Siamo quasi in estate Guardate qua Wow Ho tante cose Con la cosa I pantaloni Che bello Aspetta Le freccette Questo save Quella Che ci fai qua? Che ci fai questo? Mi ha ucciso Le mie luckyworks Sono fortunata Allora Zero Non ci voglio stare Qua No Possiamo fare l'altra Così vado a preparare Per uscire Si ok Vado a preparare Per uscire Ragazzi Per la visualizzazione Del video Per la collaborazione Che vuole Poi Basta Si esatto Io non ho un altro Cioè Chiudo il video Così la cazzo Dica Non ho un altro Aspetta Dove chiedere il video Ciao Ciao